Anche quest'anno le Olimpiadi sono state fantastiche e ci hanno come al solito emozionato. Ma quanti di voi conoscono la vera origine dei giochi olimpici? Prima di tutto dovete sapere che queste competizioni sportive hanno una storia antichissima. Pensate, dobbiamo tornare indietro di più di 2700 anni. Siamo in Grecia, ad Olimpia, ancora prima della nascita di Platone e di Aristotele. Ma credo che vi stia già spoilerando un po' troppo. Quindi, se ne volete sapere di più, seguitemi subito dopo la sigla. O corona o morte. Questo era quello a cui aspirava un atleta poco prima di gareggiare. Questo era il vero spirito dei giochi olimpici. Da questa motto si capisce chiaramente come una società come quella greca, cresciuta a pane d'eroi, fosse fortemente agonistica. Infatti, gli antichi greci non concepivano lo sport come svago o come intrattenimento, ma come agone, ossia come una lotta costituita da un'accesa rivalità, rivolta a primeggiare sugli altri e a vincere per distinguersi come il migliore. Perdere era un vero e proprio disonore, per sé, per la propria famiglia e per la madrepatria. Vincere, invece, era tutto. E significava ottenere la gloria eterna. Ad Olimpia, infatti, non esisteva il secondo o il terzo posto. Anche lo spirito di squadra mancava completamente. Per non parlare del fair prey, sarebbe stato un controsenso. Il vincitore era solamente il primo, ed era uno contro tutti. L'esito fortunato delle competizioni era chiaramente impersonato dalla statua di Naniche, ossia la Dea Greca della Vittoria, che si trovava collocata su un'alta base davanti l'ingresso del Tempio di Zeus nel Santuario di Olimpia. La scultura, realizzata da Peonio di Mende, era raffigurata in volo, in quanto era una divinità imprevedibile. La vittoria, infatti, poteva sorriderti o abbandonarti nel corso della gara. Vincere ai giochi olimpici era la più grande distinzione della carriera di un atleta. Il premio, però, non era in denaro, ma consisteva in una semplice corona di olivo. La vittoria consacrava gli atleti una volta tornati nella loro madrepatria. Ad essi, infatti, venivano concessi ampi privilegi. Si aprivano le porte di grandiose carriere politiche, venivano innalzate statue a proprio nome e intonati canti di gloria che portavano alla fama eterna. Il campione veniva considerato come un eroe e paragonato addirittura quasi ad un semidio. Un po' come gli atleti di oggi che lasciano il segno nella storia, diventando miti o leggende. Le olimpiade, come tutte le altre competizioni sportive dell'antica Grecia, presentano fin dalle loro origini un'intima connessione con il sacro. Infatti, tutti i giochi greci si svolgevano in concomitanza con determinate festività religiose, delle quali costituivano l'attrazione più suggestiva. Lo scopo era quello di onorare ed ingraziarsi il volere degli dèi, non a caso, durante il periodo di svolgimento delle gare, si effettuavano solenni sacrifici. I giochi olimpici si svolgevano ogni quattro anni ad Olimpia, tra luglio ed agosto, in coincidenza con la più grande ed importante festività religiosa di tutta la Grecia antica, la festa in onore di Zeus. Dietro la nascita delle Olimpiadi, come per qualsiasi altro evento importante del mondo greco, c'è un episodio mitico. In questo caso ci sono più tradizioni, considerate ugualmente valide. La prima racconta del re di Pisa dell'Elide, chiamato Enomao, che temendo l'avverarsi di una profezia, secondo la quale sarebbe stato ucciso da suo genero, cercò di impedire in tutti i modi il matrimonio di sua figlia Epodamia. L'espediente a cui fece ricorso fu quello di esigere che ogni pretendente gareggiasse con lui nella corsa dei carri. Se il rivale avesse vinto, avrebbe avuto in sposa Epodamia. In caso contrario, Enomao lo avrebbe ucciso. Lo stratagemma era praticamente infallibile, in quanto nella corsa dei carri il re era imbattibile, proprio grazie ai suoi due cavalli velocissimi che gli aveva regalato il dio Ares. Quando venne il turno di Pelope, il giovane, spaventato dalla visione delle teste affisse dei pretendenti che lo avevano preceduto, decise furbescamente di corrompere l'aurica di Enomao, facendogli manomettere il carro, il quale durante la gara si distrusse, facendo cadere a terra violentemente il re che morì. In questo modo Pelope sposò Epodamia e, dopo essere divenuto sovrano, per placare l'ira degli dèi a causa della sua scorrettezza, decise di organizzare i primi giochi olimpici in onore di Zeus. Un emisodio mitico così importante che venne addirittura raffigurato su uno dei due frontoni del Tempio di Zeus ad Olimpia. Altra tradizione attribuisce la fondazione dei giochi di Olimpia all'eroe, nonché semidio, Ercole, che le dedicò a suo padre Zeus per ringraziarsi gli dèi dove aveva ucciso Augia, re dell'Elide, che gli aveva commissionato la pulitura delle stalle, la quinta delle sue famose 12 fatiche, ma che si era poi rifiutato di pagargli il compenso pattuito. D'altro canto, la storiografia ci offre una versione diversa degli accadimenti. Infatti, secondo il peregeta e geografo Pausagna, all'origine dei giochi olimpici ci sarebbe stato un trattato politico-militare stipulato tra Ifito, re di Elide, e Licurgo, re di Sparta, per porre fine ai continui conflitti che stavano dilaniando l'Elide, ossia la regione geografica greca in cui è collocato Olimpia. Questo trattato prevedeva la sacralità e di conseguenza l'inviolabilità di Olimpia e dell'Elide stessa, ma anche un periodo di tregua militare che diverranno i secoli addirittura di tre mesi. Questa pace permetteva agli atleti e alle varie delegazioni di raggiungere in assoluta sicurezza il santuario di Zeus Olimpio, luogo di svolgimento dei giochi olimpici, istituiti proprio nell'occasione da Ifito al fine di ringraziare gli dèi per la pace ottenuta. Il santuario diverrà così uno dei luoghi più sacri della Grecia e i giochi olimpici il simbolo della tregua politico-militare. Chi avrebbe osato trasgredire i patti sarebbe stato multato ed espulso dalla partecipazione della competizione. Stando alla tradizione, la data di nascito ufficiale dei giochi di Olimpia è il 776 a.C., una data divenuta di tale importanza e rilevanza religiosa che venne assunta da tutte le poleis greche come anno zero. I giochi olimpici divennero quindi un punto di riferimento importantissimo del calendario comune greco e i fatti e gli eventi storici vennero quindi inseriti nel tempo in base alla cadenza quadriennale dei giochi stessi. Ogni olimpiade aveva inoltre un atleta eponimo, ossia colui che dava il proprio nome ad una determinata edizione. Questo inizialmente era il vincitore dello stadion, ossia la gara di corsa veloce. La prima olimpiade fu quindi l'olimpiade di Koroibos, un velocista dell'Elide che si aggiudicò la prima edizione, divenendo così a tutti gli effetti il primo olimpionico della storia. La corsa fu l'unica disciplina delle prime 13 edizioni delle Olimpiadi, che duravano solamente un giorno. Con il passare degli anni però si aggiunsero altre specialità sportive, così la durata dei giochi si allungò fino a quella dei canonici 5 giorni. Con l'aggiunta di nuove discipline sportive toccò agli elanodici, ossia i giudici di gara, l'assegnazione dell'atleta eponimo, che venne scelto come il più meritevole tra tutti gli atleti partecipanti, indipendentemente dalla disciplina sportiva praticata. Possiamo così definirlo come una sorta di sport award dell'antichità. Ma chi poteva partecipare a queste competizioni sportive? E chi erano gli atleti in gara? Erano dei dilettanti o dei professionisti? Andiamo a scoprerlo insieme. La partecipazione ai giochi olimpici, fin dall'origine, era riservata a tutti i greci liberi di sesso maschile, che non avevano mai ricevuto una condanna legale. Erano perciò esclusi dai giochi le donne, gli schiavi, gli stranieri ed i sacrileghi. Poi, dopo con l'espansione avvenuta durante il regno dell'Alessandro Magno e successivamente poi con la conquista romana della Grecia, i giochi vennero aperti a tutto il Mediterraneo. Partecipare alle Olimpiadi non era affatto semplice, perché richiedeva un grandissimo di spegno economico e di tempo. L'atleta, infatti, oltre a procurarsi a sue spese l'attrezzatura sportiva adeguata, doveva presentarsi nelle vicinanze di Olimpia 30 giorni prima dell'inizio delle gare e garantire agli esaminatori, giurando inoltre di fronte a Zeus, di essersi allenato per almeno dieci mesi ininterrotti. Questo procedimento rientrava tra i rigidi regolamenti di Olimpia, che ciascun atleta era tenuto a rispettare. Pena la squalifica. Capite bene quindi che dovendosi dedicare all'attività sportiva per circa un anno, un qualsiasi membro della classe meno abbiente non avrebbe mai potuto perdere tutto questo tempo lontano dalla propria attività lavorativa. Inoltre, inizialmente, non esistevano premi in denaro, né contratti multimilionari con multinazionali, che avrebbero permesso così di sostenere gli atleti almeno durante la loro preparazione. Detto ciò, è semplice comprendere come, almeno per tutta l'età arcaica, i giochi olimpici vedono per lo più la partecipazione di atleti provenienti dalla classe aristocratica. Gli aristocratici, che in quel periodo costituivano la classe al potere, non erano però unicamente gli atleti che gareggiavano in tempo di pace, ma principalmente i soldati che difendevano la loro patria in tempo di guerra, per via del fatto che erano anche gli unici che si potevano permettere le armi ed un equipaggiamento consono per scendere in battaglia. I giovani rampolli delle famiglie aristocratiche, infatti, venivano quotidianamente addestrati ed educati alla pratica militare, sottoponendosi a continue prove ed esercitazioni fisiche che avevano come unico scopo quello di prepararli alla guerra. Non esistevano in quel periodo degli impegni specifici in vista di una gara sportiva, né l'idea di un allenamento specializzato per una determinata disciplina. Di conseguenza, se volessimo paragonarli ai moderni atleti olimpionici, apparirebbero rigorosamente come dei direttanti. Verso la fine del VI secolo a.C., in concomitanza con la crisi del potere della classe aristocratica, inizia un lento e graduale processo di democratizzazione della società. In campo sportivo, questo processo prende avvio all'interno dei ginnasi, i luoghi di formazione fisica ed intellettuale dei giovani greci, che potremmo paragonare un po' forzatamente ai moderni college, all'eccezione del fatto che le donne non erano ammesse e che gli uomini si allenavano in completa nudità. I ginnasi, fino ad allora riservati esclusivamente alla classe aristocratica, cominciarono gradualmente ad ospitare anche i giovani membri delle classi meno abbienti, che potevano prendere parte agli allenamenti ed entrare così nel giro delle competizioni sportive, gareggiando quindi contro gli stessi nobili. I ragazzi, provenienti dai ceti medio-bassi del popolo, ebbero, con il passare degli anni, la possibilità di intraprendere anche una vera e propria carriera sportiva, traendo da eventuali vittorie il denaro necessario per vivere e pagarsi gli allenamenti, i quali diventano sempre più specialistici e tenuti da allenatori altrettanto specializzati. La possibilità di guadagnarsi da vivere attraverso lo sport crebbe a dispisura nel corso dei secoli, in quanto si moltiplicarono il numero delle competizioni sportive e la consistenza dei premi in denaro offerti ai vincitori. Possiamo quindi dire che in età post-classica assistiamo alla definitiva affermazione del professionismo in campo sportivo, con la trasformazione parallela dello sport in un vero e proprio business, proprio come ai giorni nostri. Nasceranno infatti i centri sportivi specializzati, plurificheranno specialisti in campo medico-sportivo e, pensate un po', nasceranno le prime diete. Tutto ciò, come potete ben immaginare, generò i primi fenomeni di corruzione sportiva dell'antichità, e lo sport, così, andò a perdere quella stretta connessione delle origini con la sfera sacrale e religiosa. La corruzione ad Olimpia, però, era punita severamente. Infatti, gli atleti corrotti, oltre ad essere squalificati, erano costretti a pagare una multa cospicua, con la quale venivano realizzate le statue chiamate Zanes. Queste erano delle statue che raffiguravano Zeus, sui quali basamenti erano incisi il nome dell'atleta corrotto ed una frase che ricordava agli atleti che la vittoria si otteneva non con l'uso dei soldi, ma con la sola forza del corpo e la velocità dei piedi. Queste sculture erano disposte una di fianco all'altra davanti all'ingresso monumentale dello stadio e costituivano una sorta di via della vergogna che doveva dissodere gli atleti dal barare. Ma andiamo a vedere insieme quali erano le discipline nelle quali si cimentavano gli atleti nei giochi olimpici. Cominciamo col dire che ad Olimpia esistevano due categorie di partecipanti suddivisi per età, da una parte gli adulti e dall'altra i ragazzi. A quest'ultimi erano riservate solamente determinate discipline. Quindi, in concomitanza con le Olimpiadi ufficiali destinate agli adulti, era proprio un'Olimpiade destinata agli juniores. La disciplina più antica dei giochi, come già detto in precedenza, era la corsa veloce. Essa aveva un'origine religiosa. Infatti il vincitore aveva l'onore di accendere il fuoco sull'altare dei sacrifici. Stando ad alcuni, infatti, questa potrebbe essere l'origine della fiaccola olimpica. Secondo altri, invece, l'origine va ricercata nelle corse con fiaccole, spesso in staffetta, destinate ai ragazzi durante le festività religiose, che portavano un fuoco sacro da un altare fino ad un tempio. Inizialmente, quindi, lo stadion era l'unica disciplina, così chiamata per la lunghezza del percorso che gli atleti dovevano ricoprire. Lo stadion, infatti, era una misura di lunghezza pari a 600 piedi. Il piede, in uso nell'antica Grecia come unità di misura, però, variava da luogo al luogo. Lo stadion, infatti, ad Olimpia, misurava 192,27 metri. Dal nome della disciplina il termine andò a indicare proprio il nome della struttura all'interno del quale avvenivano i giochi. Lo stadion, in antichità, è considerato un po' come oggigiorno i 100 metri, ossia come la gara più attesa. La corsa, così come le altre discipline olimpioniche, si disputava all'interno dello stadio di Olimpia e gli atleti correvano su una pista interabbattuta che era delimitata da linee di partenza ed arrivo in pietra. I blocchi di partenza erano chiamati balbis e si presentavano come una pedana orizzontale attraversata da scanalature che avevano la funzione sia di predisporre tutti gli atleti sulla medesima linea che di agevolare la spinta al momento dello scatto. Stando alle fonti, il via era comunicato da un araldo e i giudici si disponivano sulla linea di partenza ed arrivo per decretare il vincitore ed individuare le false partenze, le quali venivano punite severamente. Nelle Olimpiadi la città di Rodi era ciò che rappresenta oggigiorno la Giamaica per la corsa. Infatti questa città vantava una tradizione atletica di antica data, con numerosi vincitori delle edizioni dei giochi e non solo. Infatti il campione dei campioni, il vero e proprio Usain Bolt dei tempi antichi, era un certo Leone di Adirodi, che per ben quattro Olimpiadi di fila riuscì a primeggiare in tutte e tre le discipline di corsa. Ottenne infatti ben dodici titoli, un vero e proprio record che venne battuto solamente nel 2016 quando il notatore statunitense Michael Phelps ottenne 13 titoli olimpici individuali. Nel 724 a.C., nella quattordicesima edizione dei giochi di Olimpia, fece la sua comparsa ufficiale la seconda disciplina di corsa, ossia il diaulo, che consisteva in un percorso doppio rispetto a quello dello stadion, con tanto quindi di andata e ritorno da parte degli atleti. Il dolico, ossia la terza specialità di corsa, fu introdotta nel 720 a.C. Questa è la vera corsa di resistenza, o meglio di mezzo fondo, la quale, stando alle fonti, variava dal percorrere dai 7 ai 24 stadi, ovvero da 1,35 km a circa 5 km. Questa gara era legata alla tradizione dei corrieri che trasportavano i messaggi da città a città a piedi in tempo di guerra. Uno di questi era un emerodromo, ossia un uomo capace di correre per un'intera giornata. Il suo nome era Filippide. A riguardo ce ne parlano le fonti antiche, che in questo caso sono un po' confusionarie. Filippide non vinse mai le Olimpiadi antiche, ma incise notevolmente su quelle moderne. Infatti costui, nel 490 a.C., corse ininterrottamente, pensate dalla piana di Maratona, fino alla città di Atene, per comunicare la vittoria dell'esercito greco su quello persiano. Purtroppo, una volta comunicato il messaggio, morì dalla fatica, perché corse, pensate, la bellezza di 42 km in armi. Su questa base di lunghezza e di insonore venne svolta la prima maratona della storia di giochi olimpici moderni. Infine, nella 65esima Olimpiade fu introdotta l'Oplitodromia, ossia la corsa in armi, che testimonia lo stretto legame delle origini tra l'attività atletica e quella militare. Questa gara, infatti, come ci riporta Pausagna, fu introdotta per l'addestramento bellico. Si correva su una distanza di due stadi e gli atleti indossavano un elmo, scudo e schinieri. Una vera e propria prova di forza, piuttosto che di resistenza. Ad Olimpia esistevano anche le competizioni di atletica pesante, ossia quelle che prevedevano lo scontro fisico. Esistevano quindi gare di lotta, pugilato e di pancrazio. La lotta, istituita nel 708 a.C., era sicuramente la meno dura delle tre, e l'atleta vincitore, per ottenere il successo, doveva schienare l'avversario a terra per almeno tre volte. Le gare si svolgevano all'interno di un ring, chiamato Scamma, uno spazio in terra soffice in cui i due contendenti potevano atterrarsi senza farsi troppo male. Le regole erano molto rigide. Erano consentite solo le prese nella parte superiore del corpo. Erano invece vietate le testate, gli accechamenti, i morsi e le rotture volontarie delle dita. Era lecito invece far perdere l'equilibrio all'avversario con degli sgambetti. Come si vede nel rilievo conservato al Museo Nazionale Archeologico di Atene, la regolarità degli incontri era assicurata dalla presenza dell'arbitro, che era dotato di una lunga verga di legno, con la quale interveniva in caso di scorrettezze. Non esistevano categorie di concorrenti divise per peso. Infatti, talvolta, capitava che il concorrente meno corpulento decidesse di non presentarsi, evitando così una gravosa sconfitta. Gli atleti, prima di gareggiare, erano soli di cospargersi il corpo con dell'olio e un sottile strato di sabbia o terra, così da renderlo viscido e ostacolare la presa all'avversario. Nell'antichità, un vero e proprio campione di lotta fu Milone, un atleta proveniente dalla città di Crotone, che vinse numerose edizioni dei giochi olimpici, primeggiando più volte anche negli altri giochi panellenici. Costui, era considerato dai greci come un eroe e su di lui, circolavano leggende di vario tipo, che enfatizzavano la sua forza e la sua mole fuori dal comune. Il pugilato, invece, accolto nel 688 nei giochi olimpici, era una disciplina molto dura e sanguinosa, e con regole differenti da quelle attuali. A differenza del pugilato moderno, infatti, il pugilato greco non conosceva la suddivisione in categorie di peso, oppure i round con gli intervalli, e non aveva limiti di tempo. Si vinceva solo quando uno dei due contendenti crollava al tappeto, oppure alzava il braccio in segno di resa. Gli incontri, in questo modo, come potete immaginare, erano estremamente lunghi ed estenuanti. All'inizio i pugili utilizzavano semplici stringhe di cuoio per proteggere le mani ed i polsi, ma nel IV secolo a.C. furono introdotti guantoni più complessi, con un'imbottitura che arriva a coprire fino agli avambracci e che tratteneva grossi e spessi anelli di cuoio duro disposti attorno alle nocche. Un esempio di questa tipologia sono quelli che possiamo ammirare nella scultura bronza del pugilatore a riposo. L'ultima disciplina dell'atletica pesante era il pancrazio, che venne ammesso ufficialmente alle Olimpiadi nel 648 a.C. Questa rappresentò la competizione più dura e brutale, non solo del programma olimpico, ma di tutto lo sport nel mondo antico. La gara non aveva limiti di tempo e si combatteva fino all'estremo delle proprie forze. Erano consentiti tutti i colpi possibili, comprese testate, calci e ginocchiate, fino a quando l'avversario non alzava il dito indice in segno di resa. Era una sorta di MMA dei tempi moderni, ma con meno regole. Erano esclusi soli i morsi e l'accecamento degli occhi, che venivano puniti severamente dai giudici di gara. Data la brutalità e la pericolosità di questa specialità sportiva, non era affatto raro che qualche atleta perdesse la vita durante la gara. Nella diciottesima edizione dei giochi olimpici, ossia nel 708 a.C., fece la sua comparsa il Pentatron. Questa gara, come ci dice chiaramente il suo nome, era composta da cinque discipline. Il salto, la corsa, il lancio del disco, il lancio del giavellotto e la lotta. Della corsa e della lotta abbiamo già parlato, ora andiamo a vedere le altre. Il lancio del disco prevedeva l'uso di dischi in pietra ed in metallo, di dimensioni e pesi differenti. In base ai trovamenti archeologici, questi potevano pesare da un chilo fino ai cinque chili degli esemplari destinati ad uso votivo. Ogni atleta aveva a disposizione cinque lanci e vinceva chi effettuava il lancio più lungo in basso ad una classifica stilata dai giudici stessi, dopo aver effettuato le misurazioni. Il lanciatore si disponeva sopra la pedana, chiamata balbis, la stessa di quella da cui partirono gli atleti dello stadion, e per eseguire il lancio compiva una torsione del busto portando indietro, leggermente piegato, il braccio con cui reggeva il disco, il quale veniva scagliato dove aver effettuato una semirotazione che gli garantiva una spinta in avanti. Ma quanti erano lunghi i lanci? Le misure raggiunte variano dal peso del disco. Le fonti ci parlano di un certo Faillo, che lanciò il proprio disco per una distanza di 28 metri. Ancora meglio, però, fece il discobolo Fleggia, che lo lanciò oltre il fiume di Olimpia, l'Alfeo, raggiungendo una distanza tra i 55 e i 60 metri, molto probabilmente con un disco più leggero. Quando parliamo di lancio del disco, la prima cosa che ci passa per la mente è l'associazione con il discobolo di Mirone. L'incredibile opera in bronzo purtroppo andata perduta, ma dunque si hanno diverse copie, tra cui quella chiamata Lancellotti, conservata al Museo Nazionale Romano. Il discobolo è considerato l'immagine più armoniosa del gesto atletico in scultura, quella in cui l'artista riesce a cogliere l'attimo magico nel quale il movimento sembra come arrestarsi prima di esplodere in tutta la sua energia. Altra gara di lancio era quella del giavellotto, una semplice asta di legno molto sottile, quasi ad altezza a duomo, e dotata di una punta smussata per non offendere. Questo attrezzo veniva lanciato con l'ausilio di alcune cinghie, arrotolate intorno alla parte centrale dell'asta, che venivano impugnate dall'atleta inserendo solo l'indice ed il medio, per conferire maggiore stabilità e una gittata più lunga. Naturalmente il lancio doveva essere effettuato prima di una linea di pedana che non doveva essere oltrepassata, ed il giavellotto non doveva superare le linee laterali del campo di gara, appena l'annullamento. Altra disciplina del pentatron era il salto in lungo, che si svolgeva tenendo tra le mani dei manubri, gli alteres, che venivano impugnati come si fa oggigiorno con il comune ferro d'astiro. Questi attrezzi, che avevano un peso oriabile da 1 a 4 kg stando agli autori antichi, permettevano di ottenere una distanza maggiore nel salto e facilitavano la caduta, evitando di atterrare di schiena. Gli atleti, effettuando una breve rincorsa, staccavano la terra prima di una linea posta sulla di una piccola pedana rialzata. Durante la traiettoria portavano le braccia avanti parallele, per poi portarle indietro poco prima della caduta. La chiusura avveniva nello scamma, ossia l'area di atterraggio riempita di sabbia lunga circa 15 metri. La distanza veniva poi misurata con delle asticelle. La tecnica del salto è stata esunta per lo più dalle numerose pitture vascolari. Ma quanto saltavano gli atleti greci? Le fonti ci parlano di un certo Faillo, un saltatore di crotone, che saltò per 55 piedi. Ben 5 piedi oltre lo scamma. In tutto saltò per una lunghezza di 16 metri. Questa distanza così esagerata ha fatto propendere gli studiosi che la norma ad Olimpia fosse quella di un salto multiplo, equiparabile al nostro salto triplo. In realtà la storia risente molto della mitizzazione di quest'uomo, che aveva delle abilità fisiche considerate semidivine, perché proprio fuori dal comune. Gli atleti del Pentatron erano considerati dagli antichi greci, soprattutto da Aristotele, come dei superatleti, perché avevano delle spiccate capacità in più discipline. Per quanto riguarda la vittoria nel Pentatron c'è ancora poca chiarezza. Sembrebbe però che all'atleta bastasse vincere almeno 3 delle 5 discipline. Qualora questo non fosse accaduto, i due atleti, che avevano ottenuto risultati migliori rispetto agli altri concorrenti nelle altre discipline, si sarebbero dovuti scontrare nella lotta per decretare così il vincitore assoluto. Ad Olimpia, tra le varie discipline, vi è anche la corsa dei cavalli, che si svolgeva all'interno dell'ippodromo. Purtroppo, oggigiorno di questo, però, non rimangono evidenze archeologiche, ma è più volte attestato nelle fonti scritte, e tra l'altro alcune delle sue parti non state anche individuate attraverso analisi di prospezione nel sottosuolo. Anche in Grecia, la febbre da cavallo era una vera e propria malattia. Infatti, la gara delle quadrighe, detta tetrippon, era la più grandiosa e quella che attirava un maggior numero di spettatori. Questa competizione, introdotta per la prima volta nel programma dei giochi di Olimpia nel 680 a.C., fu l'unica competizione che nei secoli rimase ad appannaggio della sola classe aristocratica, in quanto solo i ricchi potevano permettersi di allevare dei cavalli, comprare gli aurighi migliori, insomma, gestire una scuderia a tutti gli effetti. Nel corso dei secoli, vari re, tiranni, nobili, ma anche imperatori e generali romani sfruttarono queste gare per ingrandire il loro potere, procurarsi la gloria o il favore del popolo. Tra questi ricordiamo il tiranno Gerone di Siracusa e il sovrano Filippo II di Macedonia, padre di Alessandro Magno, che fece addirittura cognare monete che celebravano il loro triunfo. Il personaggio che però dimostrò di essere il più tronfio fu l'atenese Elcibiade, che presentò all'Olimpia del 416 a.C. pensate ben sette quadriche, delle quali ben tre si aggiudicarono i primi posti. Nel tetrippon veniva utilizzato un compresso sistema di partenza mobile, che evitava le false partenze. Il segnale di avvio era dato dal suono di trombe, ma anche visivamente da un curioso strumento, posto in bella vista su un altare che a comando faceva alzare un aquile in metallo che batteva le ali. I carri dovevano doppiare dodici volte le due mete, due tronchi di colonne infossati nel terreno, posto alle due estremità longitudinali della pista. Proprio in prossimità di queste avvenivano gravosi incidenti, spesso mortali, in quanto gli aurighi, proprio in questo tratto, cercavano la migliore traiettoria per guadagnare posti. Al termine della gara però non veniva mai incoronato come vincitore lauriga, bensì il proprietario dei cavalli, e questa abitudine fece sì che nel 396 a.C. fu incoronata alle Olimpiadi la prima donna. Costei era Cinisca, la figlia del re Archidamo II di Sparta, che in quanto proprietaria dei cavalli ottenne gli stessi onori e diritti degli altri vincitori. Oltre alla gara delle quadrighe, esisteva anche la gara delle bighe ad Olimpia, che fu introdotta nel 408 a.C. Ma un'altra cosa che mi piace farvi notare è l'esistenza della gara delle quadrighe e delle bighe tronate sia da cavalli che da poledri, e questo è da mettere un po' in relazione con l'esistenza di due categorie di atleti, gli adulti e le juniores. Oltre a queste gare esisteva anche la corsa di cavalli montati che si svolgeva un po' come il Paglio di Siena, ossia anche se il cavallo fosse arrivato primo senza Fantino sarebbe stato decretato vincitore. I giochi di Olimpia continuarono a perdurare a lungo nei secoli, fino a quando però il cristianesimo divenne la religione ufficiale dell'impero romano. Questo ebbe un'influenza determinante sul loro declino e sulla loro estinzione. Così nel 393 d.C., ben 292 edizioni dopo, il fuoco di Olimpia si spense. L'imperatore Teodosio, influenzato dal vescovo di Milano Ambrogio, vietandolo svolgersi dei giochi in Grecia in quanto festa pagana, pose fine a questa tradizione millenaria. Ma ben 15 secoli dopo, nel 1896, il barone francese Pierre de Coubertin rintrodusse i giochi olimpici, modernizzandone le regole, e introducendo anche un nuovo motto. L'importante non è vincere, ma a partecipare. E se ci pensate bene, questo è stato un vero e proprio smacco allo spirito agonistico delle origini di Olimpia. La puntata sta per terminare, ma prima una curiosità da chiedervi. Se foste un atleta nell'antica Grecia, quale disciplina avreste praticato? Scrivi la risposta qui sotto nei commenti, insieme a domande o curiosità, relative a questa puntata. Se il video vi è piaciuto, non vi chiedo un grosso gesto atletico, ma solamente di mettere un like e iscrivervi al canale. Questo sarebbe un gesto davvero importante per sostenere questo progetto di divulgazione scientifica. Grazie e alla prossima puntata. Grazie a tutti.